Arrampicare oggi non è soltanto alpinismo, anzi in molti casi non lo è affatto. Una nuova generazione di arrampicatori ha privilegiato come terreno d'azione le pareti a bassa quota, le falesie calcane, i massi erratici, dove ora è possibile sperimentarsi su difficoltà straordinarie. Anche in Valle Stretta è approdata questa nuova tendenza. La parete dei Militi, ampio spalto verticale di oltre 350 metri, ci narra una storia gloriosa scritta nei decenni scorsi da grandi alpinisti torinesi. Oggi i giovani climbers preferiscono arrampicare su brevi itinerari, due o tre lunghezze di corda di impegno talvolta estremo, quindi ci si cala in doppia per provare altre vie. Arrampicare è sempre stato considerato un mezzo, una tecnica di progressione verso la vetta della montagna, con un'ampia connotazione di simboli e riferimenti arricchitisi nel corso di una lunga tradizione alpinistica. Ebbene oggi arrampicare è sicuramente un fine, un'azione totale che raccoglie riti e contenuti di una nuova spinta esistenziale. Per i giovani free climbers arrampicare è un gioco meraviglioso che sta assumendo i contorni di una nuova disciplina sportiva. A questo punto occorre prendere atto della realtà, allenamenti severi, sacrifici e perché no anche le gare, corollario di ogni attività sportiva. Insomma non basta più il weekend per tenersi in forma ma è necessaria un'applicazione specifica con esercizi fisici e mentali, diete accurate e soprattutto per l'arrampicatore sportivo che aspira a certi risultati il primo comandamento è arrampicare ogni giorno. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie.